Questo tipo di attività incide pesantemente sulla privacy. Pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e inconscienza. Grazie a tutti.